Non puoi insultare! Era capace di guardare lontano, oltre l'orizzonte. Daniel Day-Lewis aggiunge, un uomo di grande potere che mise da parte il suo ego per dedicarsi al paese nel momento di maggiore bisogno. Quando diciamo a Spielberg che ci sembra che Lincoln avesse ben presente anche il fine giustifica i mezzi di Machiavelli, ci risponde. Lincoln fece tutto quello che poteva fare per salvare l'Unione e abolire la schiavitù, anche se i mezzi da utilizzare erano una fonte non proprio legale. Qual è il messaggio di Lincoln che vi piacerebbe arrivarsi ai politici di oggi? Spielberg, avere una profonda pazienza e sapere ascoltare gli altri. Daniel Day-Lewis, avere sempre presente il desiderio di vivere una vita finalizzata e realizzare qualcosa di importante per il proprio paese. È davvero un grande piacere intervistare Steven Spielberg e Daniel Day-Lewis per un film come Lincoln, al punto che il cronista del finale ha lasciato il posto al fan per una foto ricordo.